E' stato colpito da una rete elettrica saldata. Un operaio è rimasto ferito gravemente. L'infortunio sul lavoro è avvenuto in via Boresse a piove di sacco. L'uomo, 53enne del posto, dipendente di un'azienda esterna, incaricata di svolgere dei lavori all'interno della ditta, ha riportato la rottura della milza, lesioni polmonari, lo schiacciamento della cassa toracica. Ora si trova ricoverato all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano carabinieri e tecnici dello Spisal.